I miei amici, qui in questo momento escludo anche Ada perché Jimmy e la Bianca sono veramente gli amici, quelli con cui si è fatto tutto per la prima volta perché mio papà credo fosse stato professore di tutti e noi. Jimmy fa il maestro. E quale scuola? Don Milani, invece Bianca si è impiegata. Presa un'azienda di Pesaro che fa impermeabilizzazioni ed elettro osmosi. Non lo ricorderò mai. Se vuoi ti spiego tutto. Il mio percorso è fissato in un titolo e il titolo era Il treno cannibale, tre fermate, un'ubriaca dura triste, un po' di disordine e due memorie. Il treno cannibale è il treno che ci ha investito e quindi mi ha costretto a fare una serie di, non di riflessioni, ho preso quello che arrivava e quindi ho scritto un elenco di duecento e passa parole, così come veniva, nei vari giorni, non giorno per giorno. Era proprio il treno che arrivando da lontano nelle parole lo ritrova, tu lo senti che arriva da lontano e non ti preoccupi, rimani sulla linea, al di là della linea gialla. Poi pian piano si avvicina, si avvicina, ti fa un po' più indietro, ti viene un po' più di paura, stai attento. Infatti in questo elenco di parole si vede che prime sono parole quasi per scherzo, coronavirus, ho scritto ciponia virus, scalonia virus. Poi diventano un pochettino più, non scelte, sempre prese da quello che sentivo, però c'è una maggiore interpretazione di quello che stava succedendo. C'è virus per ricordare il periodo, ma c'è per esempio faccio il pane in casa virus, nel senso che non solo è diventata una necessità, anche una moda, ma adesso è cannibale perché si è mangiato quell'azione. Cioè adesso il pensiero di fare il pane in casa, oppure tutte quelle demagogie, quelle parole che si sono sentite, il virus se li è mangiate. Un po' come succedeva in guerra, no? Che si proponeva ai vecchi di mangiare a mio padre il pane nero, non lo poteva vedere, perché vissuto in quel momento, quel momento si è mangiato, si è mangiato il pane, quindi non volevano più vederlo. Allora rileggendo tutte queste parole ti accorgi di come queste parole, queste azioni che abbiamo fatto quotidianamente sono state divorate, cioè non vorresti più vederle, non vorresti più sentirle. Impegnati in video-lezioni, sincrone si chiamano, e asincrone sono quelle attraverso la mail, quindi arrivano le mail dei bambini, dei genitori, anche quelli all'inizio molto affetto, qualcuno stucchevole, teniamoci vicini, sentiamoci, ci vogliamo bene, no? E tu scrivevi queste cose qui, poi anche da quel momento c'è stato un caccio, ci si è, non stufati, perché non è stufati, però vedi che il linguaggio diventa più asciutto man mano che vai avanti, più secco, più professionale, pur rimanendo affettuoso, ma il primo momento è veramente, andando a rileggere le mail sono pieni di tentativo di farsi coraggio, di sentirsi vicino, di spiegare ai bambini in video-lezione i novilaresi che sono i picceni, quindi la popolazione antica del 700 a.C. e tutto il rito funebre dei novilaresi, nel momento in cui in televisione il rito funebre ci dicevano che era annullato, abolito, e lì lo presentava ai bambini come un indicatore di civiltà, di crescita della civiltà e quindi di pensiero religioso, poi pensiero filosofico, improvvisamente veniva annullato e quindi c'è stato questo momento terribile che parlavi di qualcosa di 2700 anni fa e nel tuo tempo si interrompeva. A Gianni Rodari, è arrivato a Gianni Rodari, è la grammatica della fantasia dove lui, un testo che ho riletto, veramente ho studiato, ho sottolineato in questo periodo e lui parla tra le varie tecniche per costruire conti fantastici dell'errore, l'errore creativo. Quando fai lezione in video lezione, la DAD, la didattica a distanza, ti manca l'imprevisto, l'imprevisto che ti dà la relazione, che ti dà in classe il bambino, storia diversa, incontri che si incrociano, veniva a mancare di colpo. Quindi quello mi è venuto a mancare molto in questi due mesi, cioè avere questa possibilità di lavorare sull'errore creativo, sull'imprevisto. Il virus ci ha trovato preparati per una forma di mascheramento, ce l'avevamo già. Il fatto di usare la tecnologia, di usare i telefonini è tornato utile adesso, ma una forma di mascheramento sociale, di distanza sociale, secondo me, perché la vedo così da un po', c'era già. Quindi non è vero che è stato, secondo me, così difficile affrontare la quarantena, al di là della paura, al di là delle preoccupazioni e dei dolori, però eravamo attrezzati. Il 4 maggio sono uscito, sono uscito a fare le mie passeggiate, io di solito vado verso le rive, verso la navigare. Ed è l'ubriacatura triste, perché all'inizio è stata un'esperienza sensoriale mostruosa, no? I colori, gli odori. E man mano che scendevo da via Barigari, che scende bellissimo sulle lunghe montagne, e dopo un po' non mi piaceva più. Non mi piaceva più perché era vuoto, mancava quello che dicevo prima. I racconti, le persone che ti girano, uno che si dimentica, torna indietro, ti sbatte contro. Quindi dopo questa ubriacatura sensoriale, ho subito un numero di una triste, nel senso che mi sono reso conto che non bastava, mancava quell'effetto imprevisto di qualcuno che incontri, qualcuno che tocchi. Un'altra cosa brutta di questo periodo è che le uniche regole che hanno avuto sono le regole di casa e le regole sanitarie. Questa è una cosa terribile, terribile. Infatti qualcuno dice che bravi i bambini hanno imparato ad accendere i microfoni. Non è bello, sono gesti tecnici, meccanici, imparano presto i bambini. Gli strumenti culturali sono più raffinati, infatti adesso la paura è che qualcuno cavalchi quest'onda e ci porti a fare più didattica in questa maniera. Però non hanno avuto altre regole del calcio, del basket, della strada, degli amici, delle altre case. Questa è una cosa molto brutta perché in casa tu hai l'affetto e sull'affetto puoi sviluppare emozione. Fuori è diverso, è sull'emozione che lavori e nasce l'affetto. Quindi se invertita la cosa secondo me è un dato pericoloso anche questo perché l'affetto in casa può dare qualche emozione ma è lì, è stato dato. Fuori nasce da emozioni. Mi posso permettere una cosa invece? Di sti tempi, soprattutto nell'infetteo, siamo cresciuti con un po' il mito del tuo papà, il dottor Del Nenno, che non sbaglio a dire che era primario, tu l'hai perso presto un po' come me, primario di pneumologia. Pneumologia e cardiologia. Ma non ci hai pensato, scusa, ma cavolata che ti dico il fatto dei polmoni di adesso? Tutti i giorni ti posso dire? Io tutti i giorni ho visto mio padre riflesso in qualche medico che si vedeva in televisione, in qualche articolo che leggevo, io ho immaginato mio padre col camice in questa impresa come se ci fosse. In questa situazione, in questo periodo io essendo disoccupata ho iniziato comunque a lavorare con una ditta, questa che vi dicevo prima, che è la ditta di Gianfranco Di Dario. Questa figura che io ho ritrovato in questa ditta, un uomo di 70 anni, che mi ricordava sempre mio papà, perché anche lui era un uomo di sinistra, anche lui ancora con degli ideali precisi. La mattina commentavamo in azienda quello che aveva detto Sallusti, quello che aveva detto Borgonovo, cioè facendo... e cosa è successo? Che purtroppo è arrivato il Covid e questa persona se l'è portata via. E si, il 15 di marzo se l'è portata via. Quindi la mia quarantena è iniziata malissimo, perché c'era già un legame affettivo, adesso non voglio esagerare, non voglio dire profondo, però con questo mio modo sempre di cercare certe persone, in altre che conosco, in lui avevo identificato. Per cui la mia quarantena è cominciata così. La cosa terribile di questa quarantena che è stata per me è l'idea delle persone conosciute che un giorno le vedi e poi improvvisamente non le vedi più. Il problema è stato un po' la riunione in casa, perché è sposata comunque con un marito che è spesso fuori per lavoro, figlia a Bologna, probabilmente la figlia è a casa tutto il giorno. Abbiamo dovuto reimparare entrambe a vivere insieme, perché lei è abituata a vivere a Bologna, io è abituata a vivere da sola. E questo insomma, devo dire che ce la siamo cavata, alla fine il bilancio è positivo, abbastanza bene. E io ho avuto la stessa sensazione che ha avuto lui quando sono uscita la prima volta. Ho avuto voglia di tornare a casa, perché non c'era nessuno, perché era vuoto, perché era devastato, perché avevi anche la sensazione che le persone non ci fossero proprio più. È tutto uguale senza le persone e questa sensazione sempre di volersi svegliare anche, cioè di essere in un incubo, non una serie. Quindi bisogna che torni in una dimensione che conosco, perché questa non la riconosco come mia. E per il resto sono stati giorni di grandi ripensamenti anche sulla propria vita ovviamente, su quello che hanno fatto, su quello che hanno fatto, soprattutto su quello, mannaggia, che avrebbe potuto fare o dovuto fare pensieri che ho cercato di reprimere con violenza, perché questo tornare indietro in maniera ossessiva comunque non è costruttivo, ma in un momento della vita in cui tu non riesci a programmare un futuro, perché il futuro ti è scadenzato da dei decreti o comunque da delle scelte di altri, a cui tu ti devi adeguare, ti adegui anche volentieri nel senso che capisci l'utilità di queste limitazioni, però non riesci più a programmare banalità, un aperitivo, un parrucchiere, cioè quelle cose che erano tu acquisite, non ci sono più. E quindi cosa fai? Non potendo programmare un futuro, ritorni indietro nel tempo. Avrei una domanda io, se Giovanni aveva già questa giacca ai vostri tempi? Sì. 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 Sì.